Siamo in esclusiva con Umberto Eusepi, al momento è l'ultimo volto nuovo di questo calciomercato dell'Avellino in attesa dell'ultimissimo colpo. Umberto, benvenuto ad Avellino, anche se il tuo esordio già c'è stato, fortunatamente sabato in occasione della sfida contro Lentella. Il tuo ingresso in campo è stato importante? Sì, sono contento che appena arrivato il mister mi ha subito dato la possibilità di esordire davanti al nostro pubblico, al mio pubblico, quindi sono stato molto contento. È stata una prestazione comunque importante da parte di tutta la squadra, siamo riusciti a recuperare una partita che non meritavamo assolutamente di perdere e questo ci dà morale per la partita di lunedì sera a Trapani. Questa è stata la partita, invece facendo un piccolo passo indietro spieghiamo ai nostri telespettatori, a tutti i tifosi dell'Avellino, la tua trattativa. È stata una trattativa lampo, ma è stata una trattativa che è andata in porto soprattutto perché hai accettato volentieri di venire qui ad Avellino, è stata forte la tua volontà. Sì, ho rifiutato due o tre situazioni importanti, anche la Ternana che sembrava fatta ho rifiutato all'ultimo secondo perché non mi sembrava una cosa fattibile, ma non per aspetto economico perché volevo rimanere a Pisa. Poi mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto c'è la possibilità di andare ad Avellino, ho detto io ad Avellino vado perché è inutile stare a dire della piazza e le solite cose. Questa è una piazza che sta stretta anche in questa categoria perché basta un po' di entusiasmo che ti porti 15.000 persone allo stadio, quindi già quello basterebbe a tutto. Poi ecco, c'è un allenatore da Serie A, sono giocatori secondo me fortissimi per questa categoria, un'ottima squadra che comunque ricordiamo che comunque in classifica non siamo messi benissimo, però è talmente corta, basta vincere un paio di partite e ti trovi in zona playoff, ecco, io ho accettato subito, forse nel giro di un paio d'ore. Cioè avevo dato già l'ok la sera prima, dovevamo aspettare il giorno dopo comunque ecco. Certo, è stata quindi importante appunto la tua volontà decisiva, lo abbiamo più volte sottolineato, abbiamo sottolineato soprattutto di questo tuo legame con Pisa, purtroppo eri finito ai margini, soprattutto nell'ultimo periodo con mister Gattuso che era stato chiaro nei tuoi confronti, però noi abbiamo sottolineato, in questo momento sei tuttora il capocannoniere del Pisa con tre gol. Sì, no, ma lì c'è stata una situazione secondo me che va oltre le scelte tecniche perché secondo me è stata più una scelta dettata da altri fattori, però non c'è problema perché comunque la piazza sa quello che ho dato a quella squadra e penso che il 50-60% dei gol sono stati propizzati da me o addirittura da reti mie, quindi io sono andato via con la coscienza a posto, sono rammaricato perché quella piazza mi avevo voluto lasciare, però non c'è problema anche perché sono venuto in una piazza caldissima, una piazza che sicuramente mi esalterà e spero di ripagare la fiducia che mi ha dato il Presidente, il Direttore, quindi non vedo di giocare già lunedì, spero di fare il prima possibile i gol e soprattutto di dare una mano alla squadra perché è quello che serve, poi i gol li faranno tutti perché hanno tutti le possibilità di fare i gol. Cosa è stato ribattezzato a Pisa Re Umberto, ma anche qui in Campania hai lasciato ottimi raccordi, soprattutto a Benevento, un po' meno a Salerno, conoscevi come ci hai confermato la piazza di Avellino, qual è il tuo obiettivo personale? Il mio obiettivo personale è dare il massimo tutte le partite e far salvare questa società, questa squadra, ovviamente con l'aiuto della squadra perché da soli non si fa niente, io sono venuto soltanto a dare una mano a una squadra già amalgamata e già forte, quindi mi metto lì con la mia umiltà, con il lavoro e cercherò di fare il massimo in queste 20 partite. Tecnicamente sappiamo che sei una prima punta, però abbiamo visto con Lentella che hai giocato al fianco di Ardemani, entrambi avete giocato molto bene, possiamo dire che potresti in un certo senso anche fare la seconda punta come è stato appunto con Lentella, insomma tu e Ardemani potete coesistere in sì? Io penso di sì perché tanto alla fine se fai le cose che ti chiede il mister possiamo coesistere tutti, poi c'era fuori anche Castaldo che è un giocatore secondo me fortissimo per la categoria, quindi davanti siamo in tanti, siamo tutti bravi e poi farà le valutazioni del mister, cinque metri indietro avanti non mi cambiano sicuramente, quindi cercherò di imparare in fretta anche in quella posizione perché mi muova però senza problemi. Un ultimissimo abbattuto, poi ovviamente ti lasciamo alla conferenza stampa che seguiremo come sempre in diretta, arrivi in prestito dal Pisa, tanti tifosi già sognano, abbiamo detto l'obiettivo principale è la permanenza in Serie B, pensare a un futuro anche con Euseppe, l'anno prossimo con Lavellino o stiamo buttando troppo le mani avanti? No, no, io sono venuto in prestito ma se a giugno ci sarà un'offerta che poi bisogna avere comandato il campionato, se ho fatto bene, che piaccio, io non mi precludo niente anzi, sono venuto soltanto a continuare quello che ho fatto questi sei mesi, a far bene in questa categoria perché è la mia prima vera esperienza in questa categoria, a parte qualche parentesi, quindi sono venuto a giocare, poi quello che succederà a giugno neanche ci penso perché c'è lo step prima della salvezza, partita dopo partita poi vediamo.